Siamo ritornati nel giardino, ed il terreno era bagnato, abbiamo riscalato la montagna, e le nostre scritte erano lì, abbiamo camminato nelle stanze, abbandonate, senza paura, e ricominciare a volare oltre le stelle, oltre il mare, e avere la forza di tornare a calvestare lo stesso suono. Hanno sequestrato il terzo piano, e le bottiglie erano vuote, i lavori mai continuanti, erano belli come i fantasmi, abbiamo la strada, per ricominciare a volare oltre le stelle, oltre il mare, e avere la forza di tornare a calvestare lo stesso suono. A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.